Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi un video nel quale voglio mostrare... Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi un video nel quale voglio mostrare i miei costumi preferiti del pillolo Quindi non la collezione completa Quella lei ve l'ho fatta un anno fa Però vabbè comunque sono cambiati completamente Con il lancio proprio più mi sembra E niente Voglio mostrare i miei 5 Mi sembra che sono 5 Costumi preferiti di questo periodo Quindi di questi stagini diciamo Stato ad agosto Tra poco felici l'estate E quindi questi Allora No aspettate Prima di iniziare col video Volevo dirvi una cosa Avete presente il mio ultimo giveaway Quello che è terminato appunto L'ultimo giveaway che potete trovare sul mio canale Io ho fatto l'estrazione Ho scritto il nome della vincitrice Tra i commenti appunto di quel giveaway Però qualcuno sicuramente non l'avrà visto Perché molte mi continuate a commentare Quando metti la vincitrice Quando la metti Io già l'ho messa Non ho fatto il video Perché quel giorno Sono stata a Roma Mi sembra Vabbè insomma Non ho avuto Tempo di fare Cioè ho fatto l'estrazione Appunto per vedere la vincitrice Ma non ho fatto Non ho girato il video Però il commento L'ho messo Con il nome della vincitrice L'ho messo Tra i commenti del giveaway Adesso non mi ricordo bene Comunque ho avviato il pacco Alla ragazza E tutto Perché Appunto Vi ha contattato Eccetera La ragazza Quindi appunto Il nome della vincitrice È Giussi Sinni Se non mi sbaglio Perché l'ho fatto Appunto tempo fa Quindi non mi ricordo Adesso se il nome è giusto Comunque Per sicurezza Andate a controllare Tra i commenti Del giveaway Lo so che forse Era un posto un po' scomodo Perché Tra i commenti Adesso dovete scorrere Tutti i commenti Se non si trova Delle primi Però purtroppo La persona Mi organizzo meglio E Tra poco appunto Ci sarà Un altro giveaway Sul mio canale Per il ringraziamento Dei miei Cioè Per ringraziarvi Dei miei iscritti Quindi rimanete connessi Iniziamo con il video Allora Primo costume Primo costume Che vi mostro È questo qua Lo chiamiamo il blu Cioè È blu Quindi lo chiamiamo il blu Ovviamente Quindi Primo Il costume blu Non ti profumo troppo È fatto così a fascia Però volendo Si può mettere Il laccetto sopra Quindi che provo a finire Di dire il collo Ed è fatto così Niente Non so come farvi vedere Spero si veda La mutanda È a brasiliana Fatta In questo modo Qua Così Dietro È fatta Di tessuto Non so come si chiama Insomma Quello del tessuto Che è Più lisci Insomma E davanti C'è tipo Questa specie Di Tutto bugherellato Come il reggisino Insomma La cosa che mi piace Di questo costume È proprio quello Che ho messo al primo posto Perché mi fa impazzini È Che non ha I socchetti al lato Quindi è una mutanda normale Io amo questo costume Proprio per questo E poi perché È troppo bello È comodo Quindi primo costume Inconveniente purtroppo Secondo costume Lo chiamo Il costume piccolo Perché Perché questo costume Mi fa leggermente piccolo Cioè il reggiseno Praticamente come vedete È molto molto piccolo È piccolissimo L'altro è il reggiseno Però mi piace Quindi molte volte Cerco di infilarlo Però comunque Mi piace E è questo color Quindi sì Costume piccolo Questo È color verde Una specie di verde militare Qua ai lati Me è dentro anche Mentre fuori Ha questa fantasia Simile a quella Del costume busol Che ha i ciorellini Disegnati Una cosa del genere Insomma fatto così Anche qui ha il cosetto Che si può andare Dietro al collo Però non lo trovo più La mutanda Appunto è uguale Dietro È sempre brasiliana E dietro È fatta Così senza fantasia Quindi verde militare Ha i ciocchetti E avanti Stessa fantasia del reggiseno No Così non è brasiliana Mi sono sbagliata Non è brasiliana È normale Quindi secondo costume Piccolo Poi Terzo costume Lo chiamo Costume prugna Perché è viola Perché è viola E mi fa ricordare Le prugne Perché allora Vabbè appunto Perché è viola E poi è un tessuto Molto Avete visto Le prugne No? E se vi toccare Sono lisci Ecco lo stesso Lo stesso Cosa strana Però Così è costume prugna Quindi Niente È fatto così Ha i ciocchetti E non è brasiliana È mutanda normale Ed il reggiseno È fatto Aspettate Com'è quasi così È un reggiseno normale Mi piace tantissimo Perché ha queste cosette E mezzo Ed è fatto così Quindi Cosume prugna Quarto costume Lo chiamo Il costume Estivo Cioè voi dite Se è un costume Ovvio che è estivo Quando ci vai all'armare D'inverno Però lo chiamo estivo Perché è tutto colorato E mi piace troppo La mutanda È fatta così Io mi ho visto In menta mua È fatto così È di base È color Verdiacqua E poi tutte queste macchioline Qua E fiocchetti Di dita brasiliana Il reggiseno Io l'ho abbinato io Perché non mi ricordo Se c'era un reggiseno Proprio del costume Però l'ho abbinato io Infatti questo Ed è fatto Praticamente Ok Così Ha i lacci Perché si lega qui sopra Con fiocchetti sopra le spalle E Ha questa tendina nera Tutta fatta così Con questa fantasia E sotto È Color verdeacqua Appunto Come la mutanda Quindi Colore Ok Colore Costume Estivo Ultimo costume Lo chiamo Costume Primaverile Oppure il costume Fiorato Perché appunto Dalla parola Fiorato Appunto Ci sono i fiori Praticamente È fatto così Sempre a brasiliani Con i fiocchetti Ed è lo stesso modello Appunto Stesso modello Di questo Solo che la fantasia Cambia È bianco Con questi fiori Fatti così Insomma Bellissimo E anche il retiseno Questo qui L'ho Abbinato io Ed è fatto così A fascia Questo qui Aveva dei fiocchetti Qui in mezzo Che andavano per così Però non so perché L'ho cancellato L'ho tagliato Perché erano scomodi Ed è niente È fatto così A fascia Quindi Questi erano Tutti i miei costumi No Non tutti i miei costumi La mia collezione No I miei cinque costumi Preferiti Di questo periodo Insomma Diciamo Di quest'estate Mettete un like Se il video vi è piaciuto E se non vi è piaciuto Mettetelo lo stesso Iscrivetevi al canale E commentate Vi ricordo Che Voglio fare appunto Un video Ask Quindi se avete qualche domanda Da farmi O volete chiedermi qualcosa Lasciatemi giù Giù tra i commenti Una domanda Con l'hashtag Ask Alessia Macci E io farò un video Dove appunto Risponderò a queste domande E niente Aspettate Ok niente Quindi Se volete Se volete sapere appunto Il nome Della vincitrice Del giveaway Mi sembra che è giusti Signi il nome Adesso non mi ricordo bene Quindi andate per sicurezza A controllare Tra i commenti Del giveaway E rimanete connessi Perché ci saranno Altri giveaway appunto Io vi mando un grosso bacione E ci vediamo al prossimo video Ciao